per te puoi prenderti tutto per 90 dollari è bello fare affari con te e te l'hanno mai detto che la tua faccia sembra un culo si e se proprio vuoi saperlo me l'ha detto un caricaturista dopo avermi fatto un ritratto mi sono rifiutato di guardarlo e non l'ho neanche comprato l'ho comprato io hai la faccia come il culo